non vedo il salame dov'è che ha un modo di dire allora ok molto bene grazie e voi e facciamola parla Solviate Olona Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno. Pane in mostra. Buongiorno. 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 Io c'è... Perché io cago. Vero, grazie? Lo spritzabraudo... Lo dico dove va? Dive lo spritzabraudo. Il tempo reale. Ma è sorpetto a tutti. C'è un po' rosa. E' un po' rosa. E' un po' rosa. E' un po' rosa. Probabilità alla luce. E' un po' rosa. Try isle la parte che fa... Grazie a tutti. E' aperto, sì vero? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno signore, buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Certo, il doppio colore colpisce di più però anche... però tutti quanti. Questo che si chiama Cosmos ha dei pezzi con bruciatura, dei pezzi biancastri, dei pezzi perché è in nuce, in realizzazione. Complimenti, anche voi che avete avuto questa idea. Perché va beh che... No, veramente. Assolutamente. assolutamente, veramente, io... questo qua, questo qua, come con la foglia del ginkgo bilo va, è così semplice. Pazzesco, io mi faccio il secondo giro. l'abbia apprezzato. No, no, poi io queste le pubblico così lo vedono anche gli altri. ecco, mi colpisce... ecco, mi colpisce il colore qui che... colore diverso e... diciamo, come ha fatto? Ha dipinto col penarello dopo? Sì, veramente? Cioè, sembra... No, appena ho visto, appena sono entrato ho detto, lì ha fatto, ha pitturato, perché non è possibile. Questa qui... Lì all'ingresso... Ah beh, questo era... Sì, beh, questa era la locandina. La locandina... La locandina... Ah, ecco. Sì. Bene, mi ha fatto veramente piacere, guardi. E' una cosa importante che noi... che non viene mai sprecato questo pane, eh? Eh sì. E' sempre irritato, poi può essere congelato, può essere ripreso quando uno volesse mangiarsi. Quindi, diciamo, c'è anche un discorso... No, no, grazie. Adesso vi tolgo il disturbo, complimenti, eh? Grazie. Complimenti di tutto. Buona continuazione, arrivederci. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.